Un lunghissimo post sulla pagina ufficiale di Alessia Marcuzzi racconta di un incontro davvero incredibile avvenuto per caso in un ristorante, che ha lasciato alla conduttrice una grandissima emozione. Di ritorno dal cinema con il figlio e il compagno, Alessia ha incrociato gli occhi di un uomo che si è avvicinato al tavolo chiedendole Mi dispiace interromperla, ma lei ha un viso così familiare e sembra una persona molto sensibile. Sono il papà di Nicholas Green. Nicholas, lo ricordiamo, perse la vita nel 1994 durante un viaggio con la famiglia verso la Sicilia e i genitori decisero di donare gli organi del figlio per salvare altre sette vite umane. Gli ho presentato un mio figlio, ha continuato Alessia, e lui mi ha detto con le lacrime agli occhi, avrei sperato di vederlo crescere così. L'ho ringraziato di essere tornato in Italia e di essere stato di grande aiuto con la sua immensa umanità.